In un tempo in cui divorzi e separazioni aumentano, c'è ancora chi racconta una storia fatta di amore e condivisione. Michele Livecchi e Grazia Laimo, rispettivamente 85 e 80 anni, hanno raggiunto il traguardo dei 60 anni di matrimonio. Una vita semplice, quella di Grazia e Michele, iniziata il 26 ottobre del 1963 e trascorsa tra la casa, il lavoro e gli affetti più cari. Michele si è preso cura della famiglia con il suo lavoro di autotrasportatore, mentre Grazia, casalinga, ha cresciuto con amore ai cinque figli. Giussi, Margherita, Patrizia, Mariangela e Cristian, che col tempo li hanno resi nonni di sei nipoti e tre pronipoti. Dopo sono andato in militare, quando è venuto dopo due anni di militare, ci siamo conosciuti. Ma mi dico una cosa, chi ha fatto il primo passo, lei o suo marito? Tutte due. Quindi vi siete incrociati gli sguardi? Sì, sì, tutte due. Quindi ci rivediamo per il settantesimo allora? Sì, sì. Cosa l'ha colpita? Eh, mi ha colpito il povere. È la primogenita di questa coppia, 60 anni di matrimonio, cosa provi oggi? Ha una grande emozione avere i genitori che compiono 60 anni di matrimonio. Qual è la forma, la ricetta per far durare un matrimonio così tanto? Eh, volersi bene, andare d'accordo e avere pazienza.